Ciao ragazzi, benvenuti tornati al nostro canale YouTube di VagItaly oggi stiamo cercando di un strumento molto potente questo strumento si chiama Toolbox e permette di uscire il tuo Discover Pro versione 2 o 2.5 MIB I quindi la versione top che potrebbe leggere i video di DVD non è possibile uscire il Discover o la composizione di media, solo il Discover Pro se non è possibile leggere la descrizione quindi questo strumento è davvero molto potente e permette di modificare molte cose dentro del nostro Discover Pro oggi stiamo iniziando a vedere cosa è possibile fare nel toolbox quindi dopo l'installazione entrai dentro e hai un menu molto lungo con molte possibilità oggi stiamo iniziando a vedere cosa è possibile fare sullo Android Auto perché questo strumento permette di unlockare Android Auto sul nostro telefono sì! Unlocking il radio permette di unlockare il telefono questo non c'è troppo persone pensano che per vedere i video e fare molti cose è necessario unlockare il telefono questo non è vero quindi se andiamo nel menu customizzazione come vedete andiamo nel menu dedicato Android Auto ok andiamo dentro e poi puoi installare Android Auto custom application patch quindi il nostro Android Auto dentro il radio sarà patchato ok e con ogni smartphone senza ruta sarà possibile usare molte applicazioni quindi ora guardate il mio telefono Samsung S10 ok che con questa applicazione Rout Checker ti mostro che non c'è una ruta nel mio telefono quindi questo è un telefono il telefono è lockato e non c'è una ruta ok questo significa che ogni telefono connesso permette di usare troppo molte applicazioni ok ora dopo questo abbiamo patchato il sistema andiamo dentro Android Auto menu ok e come vedete c'è una applicazione standard che è tradizionata in italiano ma abbiamo la stessa applicazione ma CarStream Fermata Audio e Performance Monitor non funziona tipicamente senza ruta ma ora come vedete CarStream che è una versione dedicata di YouTube per Android Auto funziona ok ok abbiamo ottenuto un paio di video su YouTube e come vedete il video è iniziato senza problemi potete usare voice per cercare per cercare il video che vuoi e c'è un pulsante per andare full screen e come vedete ogni video è iniziato senza problemi e ripeto il mio S10 non ha ruta questo è l'applicazione che molti vogliono vedere il video per il bambino che quando stiamo guidando il bambino il bambino il bambino e questo è un'applicazione Fermata Audio è più o meno un giro di video come VLC ok questa applicazione permette di vedere le video che sono salvati in il telefono ok se vi clicco il video che ho salvato in il mio telefono in il telefono perché ogni video funziona funziona senza problemi anche questo applicazione permette di essere controllato con il precedente e il trattato ok come vedete 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 come vedete vedete se vedete primo country and then you can see television while we are driving without any problem you see we try a couple of channels italian channels and this channel will work now we remove the audio of the television because we don't want that the video for copyright reason will be removed from YouTube okay so you cannot hear but audio and video perfectly working syncing no problem you see also a movie in HD working perfectly without any problem so obviously it will take data from your phone okay so another video okay also this one is working after a couple of seconds to make a buffer the video is starting okay very 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 powerful tool also format audio you will see all the the description to download this application in the description of the video okay and now we look performance monitor what is performance monitor performance monitor is a very powerful tool developed by the same developer of the toolbox mr chill out that we huge thanks for all the application that is doing this is a monitor of the performance of the car you can customize many parameters as you see also it takes the ambient color of the car now we see the pressure of the turbo and the power of the car you can see also the battery level the the temperature of oil and water so many parameter now turn on the car you see that the parameter is live and go up you can have more screen also so another tool that without the route was not working but in this case just install the application and as you see is working is have also a proximity sensor when we put our hand near the screen also change as you see and show vagitaly our youtube channel and too many parameter all the parameter that you see the three bars and battery can be customized you can change the parameter there is a very very long list of parameter that made this possible working okay this is just free application that we are unlocked thanks to this tool maybe more application can be unlocked more application will be probably published on XTA forum so take a look in the link in the description and look if more application will be probably released and could be used on our discover pro so follow vagitaly and see you for the next video